e cavalli di essere voi i sacchettini da guardare apri avvisa tutti che si entrasse se li hai? aspetta un attimo se ne bisogna spaccare almeno questo asso quello lì che è sopra non si riesce a muovere si si viene via dai fatta fatta a posto è mio, lo romica brava brava bravissima bravissimi bravissimi ragazzi bravissimi mi ho leccato il guinzaglio se non tenerla bene